Siamo con Germana Tognella che è l'unica timoniera italiana in gara a questo mondiale sta andando molto bene dopo due giornate, sei prove, trentaduesima in classifica quindi è stata promossa la flotta gold come sei arrivata a questa classe laser SB3? Ma un po' per caso, noi avevamo una barca che usavamo per fare le uscitine in Sardegna così a picnic e abbiamo deciso di rimetterla a posto per usarla per le regate e quest'anno siamo capitati a questo mondiale dopo aver fatto una tappa anumana, due tappe anumana di cui una con me al timone e poi gli italiani qua a Torbole sempre io al timone e poi questi mondiali quindi è la mia terza esperienza al timone Prima del laser SB3 quali sono le tue esperienze veliche? Fondamentalmente su barche grosse, barche d'altura in ruoli un po' vari e poi una tappa su Mel Gius 24 però a prua Cosa potresti dire di questo laser SB3? Che tipo di barca è? Se la dovessi spiegare o consigliare a qualcuno? Ma guarda, è resistente, ho visto dai botti che ho sentito su altre barche regge bene il vento quindi questa è una bella cosa ed è divertentissima di poppa all'asco poi qua al lago di Garda che comunque c'è sempre una bella aria è divertente Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!